Comincia oggi con l'apertura delle porte del santuario la festa della Madonna delle Galline. A Pagani arriveranno tantissimi turisti e l'afflusso di persone preoccupa la macchina organizzativa. Infatti mai come quest'anno alla luce degli eventi terroristici delle ultime settimane e in relazione alla cattura Bellizi dell'Algerino accusato di essere uno dei falsari del gruppo c'è l'emergenza sicurezza. Per questo motivo il sindaco Salvatore Bottone ha scritto una lettera alla prefettura. Sì, prima di tutto per dare tranquillità, sicurezza a chi viene qui a Pagani e poi nell'occasione ci saranno centinaia di migliaia di persone in questi giorni e allora era doveroso da parte nostra organizzarsi attraverso il comando della Polizia Municipale con il comandante della locale tenenza che è stato veramente eccezionale nell'organizzare il tutto e poi abbiamo notiziato la prefettura, la questura di questo momento che si vive a Pagani e abbiamo anche chiesto di farci stare tranquilli alla luce anche di questi momenti particolari che si vivono a livello internazionale.